Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e ricettazione. I carabinieri nell'ambito dell'indagine Tabula Rasa hanno arrestato 12 persone che rapinavano i furgoni del centro distribuzione Tabacchi. Le indagini sono state avviate dopo una rapina avvenuta a Capaci il 4 settembre del 2017. In Viale Kennedy tre soggetti hanno bloccato un camion del centro distribuzione Tabacchi, Bottino 50.000 euro. Nell'immediatezza della rapina venivano subito individuati due del responsabile dell'assalto al furgone, i fratelli Bronzellino. Dopo circa quattro mesi di indagini emergeva chiaramente come l'attività delittuosa fosse il frutto di un accordo stabile fra i diversi sodali che agiva con mezzi, alcuni dei quali rubati e persone già coinvolte in reati specifici. Al vertice dell'organizzazione Cesare Unnemi che dopo essere stato arrestato il 13 dicembre del 2017 è stato subito sostituito da Vincenzo Bronzellino. Dell'assalto al furgone si occupavano materialmente Onofrio Bronzellino, Roberto Ferrante, Giuseppe Corrao, Serafino Ferrara. Su divisa a bordo di auto anche rubate svolgevano il compito di vedette avvisando, se del caso, gli altri componenti, mentre la decisione di desistere e rinviare l'azione, spettava i due capi. Ad occuparsi del bottino erano invece Manuel Patricolo insieme al suo cielo Michele Parlatore. I due proprio nel giorno dell'arresto sono stati fermati a bordo di un furgoncino che a rapina avvenuta sarebbe dovuto servire per il trasporto e la merce. Salvatore Bronzellino invece forniva costante supporto ai figli, Vincenzo e Onofrio, fornendo le auto da utilizzare per le rapine ed accompagnando personalmente i complici nel corso del sopralluogo. A partecipare alle attività del sodalizio, pur rimanendo al di fuori dell'associazione, si aggiunge Giuseppe Ragusa, che disponendo di un furgone cassonato lo forniva ai complici per compiere le necessarie operazioni di trasbordo della merce. La spregiudicatezza del sodalizio emerge dal fatto che non ha disdegnato di colpire anche ripetutamente le stesse vittime, quindi persone potenzialmente in grado di riconoscere i malfattori.